Giu il sipario sulla stagione dell'Arezzo Utah Music Festival, manifestazione organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo in collaborazione con il Comune e Well Foundation con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Sul palco del Teatro Petrarca l'orchestra giovanile di Arezzo diretta dal maestro Roberto Pasquini, in particolare si sono esibiti i violini di Laura Marzadori e Giovanni Andrea Zanon. Proporremo il concerto per due violin di Bach, due brani contemporanei che sono stati commissionati e scritti appositamente per la città di Arezzo e poi concluderemo con l'overtur coiolano di Beethoven e la celeberrima romanza per violino orchestra di Beethoven. Si chiude così il festival che ha portato la musica classica tra i giovani con straordinari musicisti under 30. Uno degli scopi di questo festival è proprio quello di proporre Arezzo come punto di incontro per i migliori giovani musicisti del mondo. A tal proposito abbiamo coinvolto e abbiamo incontrato centinaia di ragazzi che hanno affollato il teatro in tutti gli eventi per cui i risultati che mi hanno ottenuto sono stati veramente fantastici e ci hanno spinto a decidere di organizzare anche la seconda edizione, quindi questa è una notizia in anteprima. La seconda edizione di questo festival verrà proposta ad ottobre-novembre per cui ci sarà una continuazione del progetto. Grazie a tutti!